Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo insieme a Destiny Oh ma ero camperato un attimo qua sotto, sono venuti tutti contro Demeo Dobbiamo fare l'assalto alla torre sempre alla ricerca del pinnacolo dei Vex Andiamo, è apparso anche un evento opzionale che eviterei perché tipo mi ha detto tipo di uccidere Oh questo abbiamo uccidere Stacchio Aspetta, gentile dell'imperiale Vai Oh ma non muore? Ingressi in evento pubblico, uccidi il bersaglio prima che raggiunga la sua destinazione Point 1 di 8 Ma questo muore? Cacchio, è mortale Oh ma è immortale Oh ma non gli è stato alcuna le energie? Oh caccia la tua miseria Oh Oh cane qua me ne devo andare Questo me sventra, questo me sventra Allora, entriamo, da dove si entra? Andamocene via va Questo ci fa proprio del male fisico Quello è l'evento opzionale Ma come cacchio lo ammazzi? Come cacchio lo ammazzi? Tiè Aspetta, se io mi metto il mitragliatone Beccate questo Forza Ma non muore però Marco cane mi sta a far sprecare tutte le munizioni Piano, piano, piano Forza Oh fu Quando è tipo rosso non si può uccide Quando Aspetta che diventa bianco Eh sì, vabbè Ma sei immortale Vabbè non andava Hai rotto proprio l'anima E non è possibile Sei troppo grosso e non muori Proviamo quel terminale Vai Passa che mo questo non appare Mi viene a rompere le scatole qua sopra Dove? Ok Ci sono È dall'altra parte di un'altra linea di difesa Se ancora non sapevano del nostro arrivo E ora lo sa Vai Andiamoci Via come il vento Che questo non muore nemanco Con le cannona Oh cacchio Aia aia Via 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 Cioè abbiamo il barracuda? Lo prendiamo? Checkpoint raggiunti 3d8 Addirittura Vai Questo si Oh oh Che cacchio è che spara? Volevo vedere se Col barracuda Quel tizio brutto muore Aia Aia Col cacchio Manco con questo muore Via Via Lascia sto cacchio di coso C'è la tua miseria Che parte devo andare? È qua Devo attraversare il campo Ma quanti so? Allora Mamma mia Meno male Questi già so Più gestibili Vieni qua Vieni qua Vieni qua Oh ma quanti cacchio E finite pure le munizioni Vai Legionario 1 Vai 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 Benissimo Passiamo dentro va Por caccia La tua miseria Mi ha proprio rotto l'anima Sto tizio Vattene via Perché non è possibile Non muore ma Con niente Immortale Benissimo Prendiamo il braccio Alla palange Cacchio cacchio Ma chi oh A chi Benissimo Oh oh Amatto Amatto Tenta il colosso Beccate la granata Va colosso Ok Tento qua Preso Il colosso Il colosso Preso Morto Oh 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 Chi è che spara dietro? Chi è? Ma quanti so Oh che cacchio è? Ma chi è che mi sta spara da dietro? Evento completato Uccidi il bersaglio Veramente Come cacchio ha fatto a morire? Ma io non ci ho fatto niente Ma state fuori Bah Cose Che C'hanno dell'incredibile Da che parte dobbiamo entrare là dentro Vero? Eh Attraversa il campo Non ci hai avuto Vai E quello là Grosso là Quello lo sapete che ci facciamo? Guarda un po' Oh Vedi come te levi dalle scatole Eh? Bene Recuperiamo tutto quello che c'è Uh Fantastico Sventrati proprio Sopravvivi alle difese Delle distese rubicone E penetra all'interno della base Andiamo Non l'ho capito come cacchio ho fatto a completare quell'evento Bah Comunque Comunque Va bene anche così Sinceramente non gli si elevava manco un'energia Linea di ferro Ecco qua Rientro limitato Ci invitano ad entrare Dici? Che sia una trappola Al 100% Ecco qua Via Via Allora Guarda quanti stanno a venire Allora Cominciamo con le giornali Va Mamma mia Quanti siete Quanti siete Vai Uno Guarda Voi poi vengono pure all'attacco Capito? Spudoratissimi Oh Ma io ve responno Io ve responno uno dopo l'altro L'opzionico Proprio Muore in un istante Sta uno alla sinistra Cacchio Ma senti che versi che si sentono Non riesco a una regola Eccoli Via E andamocene qua dietro Ho trovato un ottimo punto di protezione Ma qua Guarda quanti Peccatevi la granadina Ma Mi avete proprio stancato Oh Matti Vengono Proprio all'attacco Questi non c'hanno peli sulla lingua E non c'hanno per niente paura Attaccano Centurione E mo si è rotto l'anima Chi è che mi attacca? Chi è che mi attacca? Chi è? Chi è? Sta qualcuno qua Eccolo Psyonico Che te fa il giro Brutto Infame Infido Uno qua Uno qua Eccolo Eccolo E' lo psionico Vieni qua da me Recuperiamo tutto quello che c'è Vendiamo tutto Ok Minigramma Ci sta nient'altro Ecco l'artri Ecco l'artri Ecco l'artri E porco cane La vedo molto dura La vedo molto dura Molto dura Allora Tu muori Ma mi è fortuna che i legionari sono molto gestibili Tiè guarda la quanti Peccato della granatina Guarda che danni Super carica per noi Ne abbiamo fatti non so quanti fuori Colosso 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 Vai Qua dietro Qua dietro Piano Piano Mamma mia Eccolo Palange amico mio Muori Aiaiaiaiaiaia Aiaia Mi ha dato delle munizioni speciali Palange Andiamola a prendere Ok Ok Devo lavorare su questa porta Va bene Vai Vado Guarda eh Guarda che succede Già mi sento che cos'è Difendimi mentre apro la porta Guarda Già c'ho una paura Desta cosa Sono rimasti pure Ho pochissime munizioni Ah Ho recuperato qualcosa Aia Assalta la fortezza Se sta apri Si sta prendo Si carica Vai Vai Ok Guarda come si sono messi E ci facciamo il primo Vai al braccio Vai al braccio Vai Due Aspetta che devo ricorrere le energie Piano Vai Ce la fai? Su In velocità Su Che tanto è lentissimo Oh E tre Fantastico Uh E' andata Assaltiamo la fortezza Assedia la fortezza Della legione cieca Dove è costruito il pinnacolo dei Vex Andiamo Si sale Ah meno male Non è manco più zona rientro limitato Sono un po' più tranquillo sinceramente Che sa che cacchio ci aspetta Salvataggio Eh Non so quanti ne ho uccisi In questo episodio Di cabale Eccola qua Zona rientro limitato E mo Conquista il pinnacolo La fortezza Della legione Dove si va Dove si va Aia Perché è così tranquillo Dobbiamo superare quel ponte Eh ma che te strilli Perché strilli Dove stanno tutti quanti Perché è così tranquillo Eccolo Eccolo Lo sapevo io Yeee Tutti questi ci dobbiamo fare Benissimo Io so carico Benissimo Io so proprio carico a pallettoni Muori Muori Forza Io ho paura che arriva qualche mostro Infatti non me la so spreca la pistola Vorrei che arrivasse qualcuno E poi Mi ritrovo senza la pistola d'ora Ad affrontarlo E sta il colosso laggiù Il colosso mi ha proprio rotto l'anima Più che altro Ci vogliono un mare di Di energie Per buttarlo giù Forza 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 Meno male che Non capisco perché non mi spari Ma io così Mi bio la testa E lo mandiamo Da dove cacchio È venuto Muori va Eccoli qua Legionario Eddoi Ma pensi che in te l'avevo visto Ma io poveramente Ma non c'hai Ma come cacchio ragioni Sono qua E muori Sti furbacchioni Sti psionici Che si fa Si fanno Tutte Oh cacchio Tutte le colonne si fanno Stanno Oh cacchio Questa qualcuno è messa E sta a venire dietro Sempre loro Che cacchio Ma è proprio stufato Ma avete stufato Morite Dai Ma che vuoi fare Ma viene pure contro Ma sei proprio un genio Allora uno qua davanti Uno a destra Dai Palange morta Vediamo di qua che c'è sta Una palange Anzi due Facciamo la prima Facciamo l'opzionico E poi ci dobbiamo fare la seconda palange Vai No Benissimo Mane uno Sempre lui L'opzionico Preso Alla grande Recopriamo munizioni Ok Continuiamo Dove si va Dove si va Sopra Che dobbiamo fare Da che parte si va Beh Dice qua Bene Da che parte passo E qua Andiamo Facciamo il giro Conquistiamo Sto maledetto Pinnacolo Che mi sta veramente A far patire Primo legionario Vai Centurione Peccato di la bombetta Va Mamma mia Quanti me ne sono fatti in lati Eh guarda qua Strage vera Io penserò a risvegliare l'otto Vai Come sempre La cosa Più facile a noi Oh oh Palange Che vuoi fare? Muori Aspetta ce ne sta un altro là Preso Guarda quanti 2250 Di 2,5 Da uno qua dietro Muori Ok C'è un condotto Per il pinnacolo Andiamo Risveglia l'occhio Usa il pinnacolo Devex Per risvegliare L'occhio Del guardia porta Andiamo Da che parte? Là sopra Arrivo 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 Vai Vai Non ho la minima idea Di cosa stia per succedere Bene Bello Oh cacchio Che cacchio sta succedendo? Portale? Bene Spettacolo Che cos'è? Che cos'è? Ecco Cacchio cane Quanto sei Grosso Quanto sei Grosso Allora Andiamo di Uh Tirate le granatine Niente male Ragazzo Daie 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 Che adesso ci divertiamo Uh Matti Ma io sto con te Pochissimi Sì vabbè Ma quanti sono? Ragazzi Qua la cosa Non si mette bene Non si mette Affatto bene Con ste munizioni Che ci ritrovamo Aia Aia Ce l'ho proprio sopra Ce l'ho proprio sopra Ragazzo Attenti eh Intanto Facciamoci I bracci destri Sinistri E obliqui Cacchio Aspettate la granata Tirate un po' troppo male Tirate male ragazzi Forza Muori Ah 95 C'è no? Fica male Daie Daie Primus Primus Uh Date le botte Primus Niente male Primus Eccolo Eccolo Dai che si è girato Beccate questo Aspetta io Io da una cortellata 200 Primus Porco cane Dai che è quasi fatto Morto Dai E Morto Primus Ahia però Sono rimasti Legionari Recupera L'occhio Ah posto È andata Uh Sono spariti pure L'altri Sconfitto Primus Sconfitti tutti Vai Voilà Vai Io Io non avrei Deserro Munizioni Vorrei che Continua Esce qualche altra cosa Qua Prendiamo tutto Ok Ah Missione completata L'occhio È carico Entriamo nel giardino nero E facciamola finita Bene Chissà che ci aspetta Nel giardino nero Mamma mia Ragazzi Come si è fomentato Bellissima sta cosa Sono troppo contento Ci è andata bene Ci è andata Stralusso Fine missione Fra pochissimo E sono troppo contento Mamma mia Primus Ce lo siamo Proprio Divorato Ce lo siamo Proprio Divorato Ragazzi Bene così Sconfitto un altro boss E adesso Diritti dritti Verso il giardino nero Sempre qui Sempre su destiny Sempre su marte Allora Facciamo una cosa Ragazzi Ci salutiamo Così continuiamo Nel prossimo video La campagna di destiny Così ci catapultiamo A quanto pare Nel giardino nero Al prossimo video